Ben ritrovati su Sport Italia con Calcio Percato Live seconda parte, vado a risalutare i miei ospiti per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, Mauro Ulizio, direttore generale del Monza, Edoardo Ermacora, consulente finanziario e il DJ Carletto di Radio 102.5, naturalmente poi la mia squadra, Sara Castellana e Marco Russo. Ben ritrovati. Io so, Mauro, che tu devi lasciarci tra poco prima di farti andare. Naturalmente abbiamo fatto la domanda su Virlis che ci chiedevano da giorni e noi eravamo un po' vaghi perché non sapevamo realmente se voi avevate già avuto dei contatti. Volevo chiederti i prossimi obiettivi per la prossima stagione del Monza. Gli obiettivi sono quelli, come penso di tutti, perché andare in campo è... In maniera già diplomatica. Adesso è partito in maniera molto diplomatica. Faccio io, Mauro, ringrazio la società per avermi dato questa opportunità, farò di tutto sia per la squadra che per i tifosi. Io sono un bomber, direttore. È una domanda un po' scontata la risposta. È chiaro che noi cerchiamo di riportare il Monza ai fasti e a quello che merita. No, no, quello sì, però io volevo sapere... Gli obiettivi di mercato in questo momento... Diciamo che vado io più nel dettaglio. Allora, come dice lei, domanda scontata, risposta scontata. No, rifacciamo la domanda. Riavvolgiamo tutto. Lotterete per i play-off? No, lotteremo per vincere il campionato. Ah, quindi si parte per vincere il campionato. Obiettivi alti, quindi campagne acquisti di un certo livello. Campagne acquisti di un certo livello, allenatore di un certo livello, organizzazione di un certo livello. Cerchiamo di riportare il Monza. Cerchiamo di riportare il Monza. 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 Monza, lo dicevo inizialmente io, perché io tra l'altro ho lavorato inizialmente proprio per il Monza. Monza, è Monza. Monza dicono Monza. Ci tengono a Monza, che lo si pronuncia in maniera corretta. Ai livelli che merita. Quindi è chiaro che il Presidente ci metterà a disposizione le carte giuste per poter lottare al vertice. I nomi adesso, il primo che è trapelato, lo dimostra, insomma. Mildis, quindi che è un giocatore importante, che è molto ricercato al momento. Quindi obiettivi alti per questa stagione. Tra l'altro io direi, prima di salutarti, di fare anche un plauso ai tifosi del Monza, che io ne conosco tanti, perché hanno veramente una pazienza. Hanno vissuto tantissime delusioni, ma ci credono. Ci credono fino alla fine. Sono stupendi, veramente. Sono a parte organizzatissimi nei vari settori, la curva, le tribune, molto attivi su Facebook, molto attivi nella vita della società quotidiana. Io ho già avuto tre incontri con i tifosi. Sono veramente contento di come ti fanno sentire, di quello che si sta creando intorno alla società. Poi è chiaro che adesso siamo all'inizio, ma adesso devono dimostrare con gli abbonamenti e riempiendo lo stadio, perché spero di fare i 3.000 spettatori di domenica. Per questo dicevo, dichiarate gli obiettivi per incentivare anche la vostra campagna abbonamenti e tutto il resto. Il Presidente li ha dichiarati dal primo momento. La conferenza stampa che abbiamo fatto dalla mia presentazione è stata abbastanza chiaro. Poi non abbiamo velleità di dover fare chissà che cosa andando ad acquistare giocatori che sul mercato hanno dei... guardiamo anche i conti, guardiamo il budget. Certo, salite ponderate, bilancio a posto. Bilancio a posto. Vabbè, direttore si parte con Virdis, poi Gullit, Van Basten, si parte con Virdis. Si parte con Virdis, abbiamo altri due o tre colpetti su cui... Baresi e Maldini in difesa. Su cui Pasini questi giorni si è mosso per... qualcuno... Bene, io ringrazio Mauro Ulizio, grazie per la tua disponibilità, ti aspettiamo presto, naturalmente vogliamo i nomi degli attaccanti. Dopo il Mondiale, perché anche noi aspettiamo la fine del Mondiale. Anche voi state aspettando la fine del Mondiale per qualche nome caldo. Bene, grazie a Mauro Ulizio e in bocca al lupo quindi alla Monza per la prossima stagione.